per lì è lunghi, è difficile ma non lo più adesso ferma bene questa parola è il caffè di ciocchino? è il caffè di litio? è lì, è un grande litio un bolo ui, è un bolo è l'esplosione quattro, è un bolo una bolo, due bolo un bolo un bolo ancora? la sala dice dai, faccio tutto, eh? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 no 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 non è vero, non è vero, non è vero non è vero, non è vero è vero, non è vero non è vero non è vero non è vero, non è vero ah ok, ah così buono, mi piace si si, con le sembole sembrano in naturale così